La straordinaria avventura dei giardini di tutta Europa attraverso il Firlouge dei racconti di celebri viaggiatori del 700-800 che visitarono i più grandi e bei parchi del continente. Questo in sintesi l'argomento trattato dalla mostra Viaggio attraverso i giardini d'Europa da Andréle Notre a Henry James che sino al 20 di ottobre anima le sale delle arti della venaria reale. Architetti, paesaggisti, principi, scrittori, intellettuali e eruditi percorrono per secoli l'Europa visitando giardini, ammirando paesaggi e traendo da essi ispirazioni. I tacquini, le lettere, i diari pubblicati o rimasti negli archivi ci consentono di ricostruirne gli itinerari e di compiere un viaggio ideale attraverso luoghi di bellezza, testimoni della storia e della cultura di un continente. Spazio ai commenti, non sempre positivi, del Principe di Ligne e a poetiche riflessioni di viaggio di Goethe e di Stendhal. L'idea di una mostra dedicata al tema del giardino è nata per anche celebrare quello che sono i 12 anni dall'inaugurazione dei giardini della Regia di Venaria. In Italia è da un po' di anni che mancava una mostra importante su questo tema e secondo noi era il luogo ideale per proporre questo tipo di esposizione. La mostra, articolata in 12 sezioni, è composta da dipinti, disegni, modelli linei e testi antichi. Tra questi troviamo il volume di Dargenville, la théorie e la pratique du jardinage, stampato a Parigi nel 1747 e custodito nella Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso che la città metropolitana di Torino ha ceduto in prestito per l'occasione. Il volume fa parte del Fondo Giulio, preziosa raccolta appartenuta a Carlo Ignacio Giulio, scienziato e scrittore vissuto tra il 1803 e il 1859, precedentemente costudita insieme all'archivio e a preziosi di Cimeli nella casa di famiglia a San Giorgio Canavese. Il volume in prestito è prestigioso anche per le numerose tavole incise contenute, essendo stato concepito per trasmettere usi e pratiche geometriche e botaniche necessarie per impiantare ogni tipo di giardino. Nella sezione di André Le Notre viene presentato questo libro di DJ da Jeanville che è l'autore che codifica quello che è il giardino di scuola francese ideato da Le Notre e che avrà un largo di diffusione per tutto il Settecento. Fino al 20 ottobre, nell'ambito dell'iniziativa Vivi Giardini, sarà possibile anche ammirare tra le stanze di verdura del parco una suggestiva esposizione fotografica sui giardini più belli delle grandi regge d'Europa. Abbiamo chiesto la collaborazione delle residenze reali europee, di cui i giardini e la reggia di Venaria fanno parte, che hanno gentilmente concesso una serie di immagini per loro più rappresentativi su questi temi e abbiamo organizzato un allestimento diffuso nel giardino in sei punti diversi sul tema che vanno dall'acqua, dalle architetture delle sculture del giardino, i grandi parterre, il potager, i kitchen garden, che sono alcuni elementi che uniscono questi giardini e che li caratterizzano. Grazie a tutti!